Salve ragazzi, bentornati al canale, oggi raga di nuovo qui sulla splendida mappa No Man's Land, qui su Farming Simulator 22, nuovamente oggi accompagnati dal nostro buon collega Sten84 che salutiamo e diamo il bentornato. Buongiorno, buongiorno Simulator, buongiorno a tutti ragazzi e grazie per l'invito sulla No Man's Land. Ma si figuri, ma lo sa che lei è sempre un piacere vedere la mano, oggi a lavorare. Allora, chissà cosa dovrei fare oggi rispetto a quello che hai fatto la scorsa volta, se non nuovamente seminare. Esatto, ti pareva. Allora, tu intanto che segui, ti giuro sono rimasti due campi, ormai l'hai fatta tutta te la mappa, potrei toglierti l'onore di fare tutta la mappa? No, direi di no ovviamente, direi di no. Allora, oggi dobbiamo fare parecchie cose importanti, nel frattempo che il collega si mette a seminare, sorgo devi fare su questo campo. Nel frattempo che si mette a seminare, noi abbiamo da fare parecchie cose, ma prima di iniziare, che poi se no me ne dimentico, vi ricordo come sempre che giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili, compreso anche un link che vi permette di comprare questo, ma anche tanti altri giochi scontati, e ovviamente anche il link del buon collega Stan, mi raccomando, passate anche sul suo canale. Allora, ho fatto un paio di cosine, tra cui ho sistemato l'estensione del campo, cioè questo campo qua ho sistemato, con calceviva, con... basta in realtà, solo con calceviva, ah e ho tolto i sassi anche. Poi, ho allargato e completato anche con la semina il campo 3, che vi avevo detto che c'era ancora una linguettina di terra che serviva, e l'ho sistemata, e poi ho iniziato un po' di rullatore, ma in teoria le abbiamo finite tutte, anche perché oramai ci rimangono solo questi due campi da seminare, quindi in teoria dovrei... sì, esatto, ho finito di rullare... direi che per il resto è tutto fatto. Siamo in piena stagione di semina, mancano per l'appunto all'appello solo il campo 11, che verrà seminato a mais, e, diciamo, questa parte qua del campo 10, l'estensione del campo 10, chiamiamola così, che appunto il collega sta facendo a sorgo. Per il resto poi la stagione di semina è finita. Oggi penso sia l'occasione adatta, finalmente, dato che oramai siamo al penultimo quasi stadio di crescita dei pioppi, finalmente iniziare con il collega a fare i pioppi. Questo è quello che faremo oggi, tra cui ho visto anche però che abbiamo i cavalli veramente a un prezzo ottimo. Adesso con la scusa che dobbiamo mandare avanti appena finiamo il tempo, devo capire se questi cavalli hanno ancora possibilità di crescita nel prezzo, se così non fosse li andiamo oggi a vendere e mettiamo 8 cavalli nuovi, così riparte la produzione. Quindi direi che nel frattempo che, caro collega, lei si sistema lì, Io, raga, mi andrei anche a fare il progetto più importante del campo 17, dell'otto 17, scusate, che è la creazione del nuovo campo 12. È abbastanza stranetto perché è tagliato in mezzo da questa lingua di, come si chiamano, di alberi, di sorta di bosco, insomma. Però tutto il resto è abbastanza, direi, pianeggiante e potrebbe uscirci un campo tutto sommato buono. Allora dai, mi sono deciso, tanto sotto consiglio del collega che non sbaglia mai, non smentisce mai. T-rex alla mano, ragazzi, e andiamo... E via così. Andiamo a estirpare il tutto, eh. Andiamo, sinceramente, sono troppo in mezzo, direi che non è il caso di avere tutti questi alberi in mezzo. Quindi mi vado a dedicare nel frattempo che lei si sistema la semina, mi vado a dedicare a questo piccolo lavoretto, raga. E così meno ci portiamo avanti anche il campo 12, che effettivamente se riusciamo a terminarlo entro la fine della puntata, magari la seminatrice ce la posso buttare sopra. Vabbè, comunque ho finito di seminare qua. Eh, lo so, devi venire qua su questo campo qui in alto, dove sono io e seminare mais. Allora, raga, dai, ho sistemato il lotto 17, ho tolto tutti gli alberi, ho dato una spuntata dove era necessario, adesso credo che possiamo dedicarci alla aratura, o meglio, iniziamo a creare un pochettino quelli che sono i bordi del campo, poi iniziamo a instradare un attimo la lavorazione, poi, eventualmente, se nel frattempo il collega finisce la semina, noi magari iniziamo ad andare avanti col tempo, capire se i cavalli sono da vendere, a capire se i pioppi crescono, se sono fermi, invece, sarà un bel problema, perché non so cosa fare. Mi si è spento il trattore in mezzo ai campi. Vabbè, interessante. Vado a vederci, io mi nascondo, vado via. Allora, ok, eccoci arrivati sul campo. Adesso, ovviamente, dobbiamo tracciare una linea abbastanza distante dal campo 11, perché non vorrei che poi con gli operai facciano disastri, quindi voglio cercare di mantenere una linea abbastanza distante. Allora, vediamo, iniziamo a tracciare una linea. Direi che sono circa 9 metri di distanza dall'altro campo, quindi circa 10 metri. Va bene. Poi, al limite, qui ci mettiamo magari un po' di cespugli, qualche alberello, giusto per dividere. Allora, raga, perfetto. Ho sistemato ancora un po' di alberelli, perché devo dire che c'era ancora qualcosa che non andava. Nel frattempo il collega, però, mi ha fatto notare... Ma dove c'è il rullo, che dici te? Il rullo più grande? No, non c'è. Vabbè, lo compriamo. No? No, 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 era sulla mia. Ah, ok, ok, ok. Allora, niente, ci ha convinti alla fine, raga, non possiamo fare più di tanto. Dobbiamo per forza prenderci un rullo. Sì, vabbè, ma non ti prendo, però, quello da 12 metri, eh. Ma che 140.000 euro mi fai spendere. Ma i 2 milioni di euro? Ma che sia con 2 milioni di euro. Va bene, va bene, va bene, dai. Mi prendi anche un trattore nuovo? Vi ha convinto, vi ha convinto, dai, vi ha convinto, allora. E fermo questo, allora, ok. Sì, per piacere, l'altro vendimelo, così almeno recupererai almeno 2 soldi, dato che mi hai fatto spendere un capitale. Ok, e io nel frattempo, ragazzi, siamo proprio arrivati giusti, giusti. Ho finito i contorni del Neo Campo 12. Nuovissimo Campo 12. Manca ancora qualche pezzettino, devo essere sincero. Però, diciamo che è già venuto veramente un bel lavoretto, eh. È venuto veramente un campo abbastanza grossino, dai. Non me ne accorgo, eh. Ma devo dirti che va bene, dai, sì. Funziona, allora? L'importante è che funziona, Mon, poi... Ecco, della serie che in due passaggi ho finito. Hai finito tutto. Prima, invece... Ce ne volevano 10. No, 100. Eh, faccia. Allora, raga, abbiamo terminato, finalmente. Alla fine ci sono dedicato un attimino e l'ho concluso tutto il campo, perché così almeno in un attimo abbiamo fatto. Ma eccolo qua, il nostro bel campo 12. Sinceramente non so quanta ampiezza abbia. Vediamo un attimo, non me lo dice, perché forse devo disegnare il campo personalizzato. Sì, vabbè. Comunque, acquistiamo le informazioni del suolo. Perché tanto non ci interessa fare tutti questi magheggiamenti con l'attrezzo. Allora, direi che momentaneamente questo campo 12 lo lasciamo così com'è. Io, off camera, mi andrò poi a passare la calce viva, mi vado a togliere i sassi, mi vado a, insomma, a sistemarlo. Ovviamente non finiscono qua le lavorazioni, perché dobbiamo ancora iniziare, finalmente, la cippatura dei pioppi. Quindi, collega, se lei è pronto, io direi che vado avanti. Tanto qui è tutto sistemato. In teoria il campo 11 l'abbiamo, come detto, seminato, voglio dire... Sì, a parte seminato, ma anche lo stiamo rullando. Vabbè, manca ancora un pezzettino. Comunque, stai, fatti st'ultima passata. Non tornare più indietro, vai subito poi direttamente alla fine del campo, vai giù e basta. Quello che è avanzato è avanzato, chi se ne frega, poi lo rulleremo bene la prossima volta, la prossima stagione di semina. Tanto, voglio dire, ne abbiamo ettari da raccogliere, non sarà quel micro campo che ci scombustola tutti. I nostri piani. Allora, raga, fermi, 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 fermi. Mezzogiorno e mezza, sono andato anche troppo avanti, porca miseria. Vabbè, comunque... Per un minuto. Per un minuto, esatto. Allora, finalmente abbiamo... Pronti per la raccolta dei pioppi. Siamo dovuti andare addirittura fino ad agosto, perché in luglio ancora non erano pronti. Ci sono voluti la bellezza di due anni, perché, se non mi sbaglio, li abbiamo seminati l'agosto scorso. Due agosti fa, in realtà. O era... No, non mi ricordo. Vabbè, comunque, ci è voluto praticamente due anni. O un anno intero o due anni, adesso non ricordo. Comunque, ci è voluto un po'. Ci è voluto veramente un bel po', però finalmente sono pronti e finalmente possiamo raccoglierli. Ma ci sono da fare anche altre piccole lavorazioni, tra cui sistemare il sorgo con l'erbicida. Quindi, collega, se tu hai voglia, io ti sistemo magari un trattore per l'erbicida, con gli pneumatici stretti, ma in realtà no, perché non abbiamo distruzione del raccolto. Quindi puoi prenderti il Massey, puoi prenderti... Qua hai l'irroratrice. Allora, sì, aspetta che te la compro, va questa qua, perché effettivamente... Quella lasciamola per il fertilizzante liquido, così almeno ne abbiamo anche due diverse. Tanto i soldi non ci mancano, mamma mia, sto sempre... Vedi quanti acquisti ti faccio fare. Sì, veramente, vabbè, però serve. Allora, facciamo così, mettiamo tutta questa roba qua, raga, prendiamo questo span di... Questa irroratrice qui della John Deere, che fa parte del DLC della Precision Farming, per irrorare con l'erbicida. Ovviamente qua ci metti l'erbicida, qui ci sono anche due pallet vicino ai cavalli. Ah, a proposito ai cavalli, vediamo un attimo i cavalli. Come stiamo messi quei cavalli? 5.000, quindi i cavalli ce li possiamo vendere, raga, perché effettivamente non vanno più avanti. Quindi vuol dire che sono a posto così. Eh, va bene. Allora, cosa facciamo? Direi che ci possiamo fare un paio di balle, perché voglio vedere la dinamica delle balle. Ok, parto. Ok, praticamente quindi dove, solo dove... Ah, è vero, lo vedo che spruzza a... A colti, sì. A singhiozzi, perché praticamente solo dove c'è l'erbaccia. Esatto. Eh, ma c'è un gran risparmio però così di erbicida. Bene, bene. Bene, veramente. Ottimo. Questa è una bella notizia. Nel frattempo noi comunque, ragazzi, andiamo a fare... Eh, questa lavorazione qui della... Di comprimere sta cosa. Ma questa cosa qua taglia e nel frattempo... Pressa e nel frattempo fa tutto l'è, in teoria, giusto? Allora, vediamo un po', raga, come funziona questa... Bella... Eh... Questa bella roba qua. Allora, vedo che... Sì, cippato, mi dice, ovviamente. Ho messo lo scarico automatico, quindi in teoria dovrebbe andare già di per sé. Ok, sento già... Oh, ma è interessantissimo. Guardate che bella balla di cippato. E poi tutta questa... Boh, non so che farci con queste balle. Se conviene venderle. Se conviene portarle da qualche parte per farci qualche lavorazione. Allora, facciamo così, raga, perché vedo che... La lavorazione è più complessa di quello che pensassi. Una, due, tre, quattro, cinque, sei... Secondo me circa otto balle a striscia facciamo. A passata. Otto, anche dieci forse. Eh, direi che ci facciamo una ventina di balle. Giusto per avere un po' di balle da parte. E tutto il resto però andiamo a utilizzare la trebbia per il foraggio con la lama per fare i pioppi. Che ce l'ho, l'ho scaricata come mod. E facciamo... E utilizziamo quella e basta. Allora, da quello che ho visto... Non so che cosa serva questa parte, diciamo, qui davanti. Però da quello che ho visto, diciamo, nelle varie lavorazioni, so che bisogna... Cioè, serve per, diciamo, spingere la balla. Adesso non so precisamente in quale maniera. Però so che serve in un certo senso per spingere. Secondo me sta barra davanti comunque non serve proprio a niente. Perché poi le... Una volta che si accumulano l'una con l'altra... Non... Non ti permette comunque di camminare. Boh, vabbè. Allora, se posso essere sincero, raga, la lavorazione non è male. Nel senso che si lavora bene, è abbastanza rapida come imballatrice. Però per l'appunto, diciamo, che il problema più grande è la scarsa capacità e la scarsa ampiezza di questa lavorazione qua. Questo, purtroppo, diciamo, è il più grande deficit di questo macchinario. Però devo dire, in sé per sé, come lavorazione, devo dire, non mi dispiace affatto. Ora io, giusto per non dar dispiacere a nessuno... Tre file me le faccio così. Tre, numero perfetto. Non diamo torto a nessuno e siano tranquilli. Una volta finite queste tre strisce, io l'unica cosa è che non capisco questa barra da mettere davanti al trattore. Perché non ha alcun senso. Vabbè, non lo so. Probabilmente ci dovrebbe stare, nella realtà, forse un carro già a disposizione con le forche. Col trattore che è in forca e già carica, probabilmente. Perché così, non lo so, questa barra davanti che spinge le balle, per i miei conti, non è che ha molto senso. Comunque, vabbè. Allora, ok, mi sono fatto un bel po' di balle, devo ammettere. Da questi pochi metri di lavorazione tre passate ho fatto, ma veramente sono uscito un sacco di balle. Come dire, da un campo di erba da 300 miliardi di ettari, perché ogni due metri neanche c'è una balla. Guardate qua, cioè, se io imballassi tutto, verrebbero non so quante balle. Quindi, non credo effettivamente neanche per il lag del gioco convenga tanto andare a fare tutte queste balle. Non credo sia sano per la nostra valutazione. No, meno, sì, esatto, bravo, 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 bravo. Quindi, diciamo, come si suol dire, bella ma non balla. Visto e piaciuto. Sì, bravo, esatto. No, sì, ma no, nel senso bella, ma no, basta. Va bene provarla, ci sta, un paio di passate, ma non fa per me, sinceramente. Quindi, credo che ricorreremo all'artiglieria pesante, davvero tanto pesante, e ci andiamo a prendere questa lama qua a pioppi e iniziamo, scendiamo sotto con i pioppi. Allora, perfetto, mi sono preso questa volta, non so le altre volte che cosa mi ero preso, ma questa volta mi sono preso la class, bella class, veramente, molto bella. In teoria dovrebbe attaccarsela comunque e non dovrebbe avere nessun tipo di fatica, anche se è class, anche perché questa in teoria sarebbe della cron come lama, però in teoria non dovrebbe avere nessun problema. Io per sicurezza ci metterei un bell'operaio, tanto il camion adesso potente lo abbiamo. Quindi, operaio e io mi conduco il camion, lo vado a portare al magazzino del cippato e facciamo questa lavorazione qua, ovviamente. Allora, tanto adesso facciamo solo giusto una prova, raga, perché comunque siamo già arrivati a un'ora di video, quindi non voglio andare troppo oltre. La effettiva raccolta ce la facciamo poi probabilmente nel prossimo episodio. Un po' credo che andrò avanti off camera, almeno a instradare la lavorazione, perché sennò non ne usciamo veramente vivi. Però, giusto per fare un po' una prova e capire più o meno quanto guadagna una parte, che forse conviene che sblocchiamo un po' la velocità. Allora, io in teoria ho finito con le orbaccia, eh. Ah, bene, ottimo. Abbiamo finito anche con la puntata, quindi abbiamo finito con le lavorazioni più importanti. Ovviamente, raga, io credo che andrò a terminare quelle lavorazioni che ho iniziato nell'8-17 del campo 12, ovviamente off camera, e poi vedrete comunque nel prossimo episodio che cosa avrò combinato. Detto ciò, ovviamente, direi che comunque per questo episodio possiamo fermarci qua. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo come sempre che in giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili, compreso anche un link che vi permette di comprare questo, ma anche tanti altri giochi scontati, e ovviamente anche il link del canale del buon collega Stan, mi raccomando, passate anche da lui per non perdervi nessun video di agricoltura. Prego, vada pure avanti. Nel frattempo che noi comunque, raga, ci dedichiamo ancora un attivino a questa lavorazione, facciamo magari un carico. Io, ovviamente, vi mando un grosso saluto e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.